In esclusiva ai microfoni di Antenna Sud, Mirko Miceli nel corso della trasmissione Rosso-Blu si è fatto portavoce dello stato morale all'interno dello spogliatoio del Taranto dopo il match di Messina. Una sconfitta che senz'altro brucia, ma la voglia di rifarsi è tanta già a partire da domenica contro il Benevento. Sicuramente le assenze, il fatto che comunque eravamo tre in campo nuovi un po' ha inciso, però ripeto sono partite che secondo me sono già segnate perché abbiamo avuto tante occasioni per fare gol alla minima loro occasione e ne abbiamo subito uno. Quindi di certo non ci deve far perdere di vista quello che è il nostro cammino, anche se io sono arrivato da poco, però so benissimo qual è e quindi c'è una bellissima partita domenica contro il Benevento e cercheremo di rifarci. Per il centrale Ex Turris sarà la prima volta davanti al pubblico del Giacovone da cui si aspetta un calore non indifferente. Quando ci ho giocato ad avversario forse un anno c'era il Covid, non mi ricordo, comunque è sempre stato un po' non vuoto, però con poche persone. Ho visto tante partite anche degli anni passati o comunque i giocatori che ci hanno giocato, tipo io mi ricordo Secas quando ci giocavo insieme mi raccontava dello stadio, del Taranto. Quindi so benissimo che apporto può dare il pubblico e quindi mi aspetterò sicuramente un bel clima. Infine la grande sfida, nessuna paura di sostituire Antonini nel mentre volato in Serie B. Noi giocatori siamo di passaggio nelle squadre, quindi ho giocato ad Avellino, ho giocato a San Benetto, ho giocato comunque in piazze importanti come quelle di Taranto. Quindi mi piacciono queste sfide e spero di ripagare la fiducia che mi è stata data.